Luca Rodino ci racconterà qualcosa in più su come essere etico-sostenibili senza troppe risorse direi ispirato da un talk a WordCamp Netherlands di un ragazzo il cui nome non oso pronunciare per non pronunciarlo correttamente tutti quanti giovanotto perché è stato poi il fondatore di IOS e poi adesso vedremo perché abbiamo ho lasciato anche il link al suo talk che non dovrei dirlo visto che è comunque un'altra azienda però secondo me è un talk veramente ispirazionale che consiglio a tutti di vedere che è la grande magia poi dei WordCamp in giro per il mondo è vero grazie Luca ti ascoltiamo con interesse allora intanto benvenuti siamo gli ultimi sopravvissuti di questa giornata che è come al solito interessante ma stancante un po' e cerco di mantenere un po' l'allegria nel parlato in modo che non ci addormentiamo parliamo di un tema super super inflazionato che è la sostenibilità e il business etico-sostenibile e perché parliamo di questo tema anche se si parla tutti i giorni tutti gli anni da ormai almeno dieci anni di questo tema qua perché quando è stata presentata l'application diciamo i temi di cui parlare a questo WordCamp mi è saltata in mente, mi si è accesa una lampadina che è stato proprio un talk che io ho seguito l'anno scorso a WordCamp Netherlands, tra l'altro WordCamp fighissimo organizzato dagli amici olandesi nella quale si andava a parlare proprio di business etico-sostenibile di siti e come tenere i propri siti in modo che siano il più green possibili cosa qua? ok, ah devo stare in mezzo, ok devo stare in mezzo io parlo tanto e cammino tanto e vabbè sono già stato presentato, io sono Luca Rodino e sono il responsabile dei servizi italiani di SiteGround che è uno steam provider allora partendo con un sorriso come dicevo è un tema super inflazionato ad oggi tutte le aziende, qualsiasi, se andate a prendere l'acqua, se andate su internet, su qualsiasi sito tutti dicono di essere green un po' come quando andate su LinkedIn e tutti dicono di essere CEO anche se non hanno un consiglio di amministrazione dietro e non hanno qualcuno che li ha effettivamente eletti come amministratori delegati allo stesso tempo tutti dicono di essere green perché? perché magari hanno piantato degli alberi perché magari hanno fatto qualche attività che per l'amor di Dio invito tutti a fare ma non li rende realmente sostenibili cosa succede negli anni? cosa sta succedendo sempre in più degli anni? che le persone, tutti noi come consumatori ci siamo un po' abituati a sentirci sempre dire che è tutto green che dobbiamo essere green alla fine non lo facciamo realmente noi non lo fanno realmente loro e non ci rendiamo conto di quanto in realtà la sostenibilità e l'essere green non solo è importante ma è semplice per noi che viviamo in un mondo che è internet e che siamo parte di questo mondo, di questa nazione e creiamo siti web quindi quello che voglio fare partendo da una definizione di business adesso andremo un po' più nel dettaglio in quelli che sono le esigenze dei consumatori anche spiegare come è possibile per chi ha un sito web anche vetrina, semplicissimo o per chi ha magari una piccola attività essere sostenibile trasformare il proprio sito in green in pochissime azioni nessun investimento tranne il proprio tempo e come mai questo è importante? allora partiamo velocissimamente su due definizioni la prima è quella di business che ho semplificato il più possibile quando pensiamo a cosa vuol dire fare business pensiamo a questo io genero valore nella letteratura genero valore per me stesso monetariamente per dare un valore a qualcuno e questa definizione io l'ho scritto tantissimo nelle slide e vado veloce poi ve le lasciamo se volete andare a vedere e si discosta da quella che è la definizione in letteratura da business sostenibile e business etico la mia domanda che voglio fare a voi è quanto possiamo permetterci ad oggi di fare una differenziazione fra la definizione di business e la definizione di essere sostenibili etici per me non la dobbiamo fare deve essere il vostro mantra come sviluppatori di siti come appartenenti al mondo del web fare una totale ci deve essere un'unicità tra queste definizioni perché adesso vedremo cosa vogliono i consumatori e cosa possiamo fare perché non è vero che oggi io devo creare diciamo devo creare valore per me stesso e dare valore a qualcun altro perché quel qualcun altro oggi quando acquista un servizio quando acquista un prodotto quando legge semplicemente un blog vuole che il beneficio che lui trae debba essere anche un beneficio della comunità globale e fa in modo che quindi la definizione di business si allarghi ad oggi poi ci sono tutte le ricerche tutte le analisi di cui non abbiamo tempo adesso di andare ma che fanno sì che le grandi aziende per la quale anch'io lavoro si stanno impegnando per cambiare tutti i loro paradigmi di business in modo tale che siano sempre più sostenibili ora perché è importante essere sostenibili prima di andare a vedere come farlo perché questa è una ricerca fatta a fine 2022 in Italia i dati dell'estero sono addirittura peggiori nel senso che noi in Italia performiamo benissimo su questo siamo veramente improntati sulla sostenibilità e vi dicono perché dovreste avere un sito web green perché dovreste avere un'attività green oltre a vedere come farlo perché vediamo il 93% e il 90% che vuol dire che praticamente tutte le persone in Italia dati di 4 mesi fa ci dicono questo dicono che preferiscono avere comprare utilizzare servizi che sono ovviamente green e sostenibili soprattutto sarebbero disposti a pagare di più ma il dato sul quale mi voglio concentrare è in realtà quello che sembra un po' più sfigatino qua 56 rispetto 93-90 non è niente di che dobbiamo pensare a una cosa a due cose uno il 56% in realtà ci indica che più della metà delle persone che sono sul web che comunque sono consumatori vanno a ricercare specificatamente prodotti servizi contenuti sul green vuol dire che c'è un'affermazione e una ricerca delle keyword che parlano di sostenibilità nei servizi dei prodotti che è in quella direzione e nella quale noi dobbiamo puntare nello sviluppo nella struttura nella costruzione dei nostri siti e nei contenuti in più io non so chiunque di noi avrà figli nipoti e quant'altro io ho tre nipoti la più grande ha nove anni quest'anno vi assicuro che questi dati non possono far altro che crescere quel 56% non ci metterà tanti anni ad arrivare al 100% perché io vedo che mia nipota ha nove anni ha una sensibilità sulla sostenibilità e sul green che è dieci volte quella che avevo io ovviamente a nove anni ma è dieci volte quella che ho io adesso pur essendo uno molto sensibile al tema e quindi bisogna tener conto di quella che è l'intenzione e l'interesse dei consumatori quindi chiudendo questa parte di diciamo introduzione si sta cambiando proprio sta mutando proprio l'interesse delle persone rispetto a queste tematiche e dobbiamo cercare di far sì che ci sia una percezione di quello che noi offriamo sia qualcosa che dà beneficio non solo all'utente finale ma anche alla comunità ok ora come fare vediamo adesso dei sistemi rapidi e veloci per capire se io ho un sito web perché è bello parlare di sostenibilità è bello parlare di essere green come hanno detto tutti lo dicono tutti è bello ok tu fai parte di una grande azienda e quindi è anche facile avete gli investimenti che possono essere apportati occhio però che essere green in realtà con un sito web è facilissimo è alla portata di tutti ci sono delle diciamo due tematiche di cui parlare adesso vedremo come affrontarle io le ho divise in questo modo essere green vuol dire essere green con un sito web con una presenza online in forma e contenuto una è legata all'altra se io strutturo il mio sito in modo che sia sostenibile green posso da esso tirar fuori dei contenuti che fanno sì che vado a rintracciare quel 56% di persone che vanno a ricercare quelle keyword questo vuol dire che non solo è utile per me avere un sito web non solo è utile per la ricercabilità dei miei contenuti e dei miei prodotti ma poi e questa è più una sensibilità vostra etica eventualmente fa bene alla comunità fa bene al pianeta perché è quello il trend verso il quale ci dobbiamo muovere partiamo da una cosa semplicissima da fare non so se voi l'avete mai fatto se non l'avete mai fatto provate è un gioco però molto interessante esistono sul web un'infinità di cosiddetti website carbon calculators ne ho messo uno qua a caso che è uno dei più famosi a me piace per il gioco che ti fa vedere ossia degli alberi dei lottatori di sumo piuttosto che tazzine di caffè i website carbon calculator fanno una cosa semplicissima inserite un url e loro vi dicono quante emissioni di carbonio il vostro sito sta producendo io qua ho messo l'url di Siteground per fare un test e mi dice che l'url di Siteground per il sito di Siteground per le visite che noi generiamo ci vuole un albero nel mondo che tutti i giorni tutto il giorno ogni secondo assorbe CO2 per far sì che venga diciamo assorbita la CO2 che il nostro sito produce può sembrare tanto perché un albero vuol dire che è dedicato solo al nostro sito in realtà è pochissimo perché il bello dei website carbon ti fa vedere qual è la media dei siti globali e tenete conto che comunque il nostro sito di Siteground è un sito che ha centinaia di migliaia di visite quindi in realtà ha un'ottimizzazione che mi pare rientri nel tra i migliori tra i 5% a livello globale ma vi assicuro che se voi andate a inserire l'url di un vostro cliente o il vostro url all'interno di un carbon calculator probabilmente anche se hanno solo 200 visite al mese quegli alberi non saranno un albero ma potrebbero essere 10 c'è qualcosa da fare in questo ambito quindi che cosa fare non so se è giusto ah sì quindi che cosa fare allora ci sono delle azioni molto semplici e delle azioni un po' più complicate qua non abbiamo tempo di andare nei tecnicismi e nei dettagli ma tenete conto di una cosa allora prima azione calcoliamo quella che è l'emissione di carbonio nel nostro sito o dei nostri clienti seconda azione anche questa che è una delle azioni che principalmente viene suggerita dai carbon calculator uno dice grazie però è la realtà ottimizzare il sito il più possibile in termini di velocità perché il ragionamento che viene fatto in ottica di sostenibilità dei calculator ed è giusto è più il mio sito è veloce meno energia viene richiesta per essere dimostrato all'utente meno emissione di carbonio viene generata allo stesso tempo l'altra azione che sempre viene suggerita come prima azione da fare ancora prima di metterci mano al sito è ovviamente appoggiare il proprio sito su un'infrastruttura che sia green che sia certificata green quindi andate a vedere quelle che sono le infrastrutture che sono certificate per non avere emissioni perché sfruttano energie rinnovabili o per bilanciare le emissioni tramite i famosi token del carbonio esempio su tutti perché lo uso perché lo conosco come SiteGround è Google Cloud Platform Google ha dichiarato nel 2007 ha iniziato nel 2007 a bilanciare al 100% l'energia prodotta con fonti di energia rinnovabile e ha dichiarato Google che nel 2030 non utilizzerà più alcuna energia se non prodotta da energie rinnovabili quindi questa è una certificazione che loro hanno ovviamente e appoggiare un sito su delle infrastrutture che sono green ovviamente è il primo passo da fare ottimizzazione poi della velocità come dicevo del sito ora entriamo più nel dettaglio di quelle che sono delle cose che tutti conosciamo ma che magari giustamente alle quali non pensiamo ora il nostro sito 18 so è quello che mi manca o quello che ho fatto ah ok perfetto allora scusate ma non so mai i tempi tenete conto che chiunque di noi ha un sito web immagino più o meno ogni sito web questo è un errore che faccio io che facciamo tutti probabilmente nel momento in cui ci lavoriamo sopra faccio l'esempio più banale creiamo un articolo in un blog in quell'articolo di blog noi mettiamo i tag i tag sono la cosa che uccide dal punto di vista delle emissioni di carbonio perché noi abbiamo fatto un'analisi all'interno dell'azienda e guardavamo i blog post che producevamo abbiamo scoperto che avevamo praticamente più tag dei blog post che avevamo creato e per ogni tag che creavamo wordpress genera un url che viene praticamente scansionato dai bot ora la situazione di internet è questa internet ha un miliardo 300 milioni di siti attivi in questo momento se internet fosse una nazione del quale noi facciamo parte perché noi tutti siamo utenti e noi tutti siamo sostanzialmente dei cittadini di internet se internet fosse una nazione sarebbe la terza nazione più inquinante al mondo dopo la Cina e l'America abbiamo una grande differenza tra queste nazioni noi possiamo fare qualcosa di concreto che può avere degli effetti immediati rispetto alle riduzioni di emissioni di carbonio del nostro paese internet ossia parlavo di tag dei blog dei blog post per ogni tag viene generato un url ogni url viene scansionato da un bot non solo esistono bot crawler che provengono da un'infinità di tool che possono essere tool SEO utili sicuramente possono essere dei motori di ricerca utili sicuramente ma vi pongo una questione pensate che per ogni blog post oltre al tag abbiamo la tecoria abbiamo degli autori quanti poi magari noi abbiamo mille autori in sideground metà dei quali magari non lavorano più per noi non hanno mai scritto niente eccetera questi generano altri url che vengono scansionati i feed rss eccetera pensate a questo io ho un blog un piccolo sito con un blog parlo di artigianato a teramo ne parlo solo in italiano è un blog è un esempio non lo faccio veramente è un blog che ovviamente attira un bacino d'utenza che è in teramo e dintorni o comunque solo nel mercato italiano perché parlo in italiano ma che senso ha a parte il fatto di avere tanti tag che mi creano vari url ma che senso ha che il mio sito venga scansionato da per esempio Yandex o Baidu nessuno perché quelle scansioni lì non mi servono nessun utente avrà necessità di far sì che il mio sito che è in italiano venga posizionato su quei motori pensate quante situazioni di questo tipo esistono al mondo in questo momento e quanti siti di quel tipo hanno allo stesso tempo diversi articoli con diversi tag con diverse all'interno di categorie differenti e tutti questi url vengono in ogni secondo scansionati da tutti questi sistemi questo genera un'emissione di carbonio devastante ma dove sta la buona notizia che a differenza dei grandi paesi come Cina America come l'Italia noi non dobbiamo preoccuparci di fare delle azioni che da qui al 2030 rimuovere le macchine piuttosto che sono cose che richiedono investimenti tempo eccetera noi possiamo diffondere che è un po' il senso di questo talk diffondere quella che è una conoscenza una sapienza diffondere queste cose qua far sapere alle persone a voi per primi e a tutta la comunità WordPress che rappresenta sostanzialmente il 50% di questo grande paese che è internet che noi possiamo diffondendo questa conoscenza in tutta la comunità attuare un cambiamento fare un cambiamento voi potete essere veramente il cambiamento non è come quelle frasi dette all'interno dei paesi voi siete il cambiamento no? noi lo siamo davvero nel senso che noi tutti stiamo facendo questi errori senza saperlo non è che siamo cattivi non lo sappiamo non ci pensiamo e in realtà una piccola azione di ognuno di noi se riusciamo a diffondere questa cultura avrà un impatto iper devastante in positivo rispetto alle emissioni di carbonio che noi in questo momento stiamo producendo allo stesso modo questa cosa qua avviene per una serie di altri file come sapete benissimo è una serie di altri contenuti che abbiamo all'interno dei nostri siti che sono totalmente inutili che rientrano poi nelle ottimizzazioni di performance che come dicevo prima nell'equazione semplice sito più veloce meno CO2 ora facciola di Yoast qua potremmo parlarne delle ore io vi rimando WordPress TV a guardare il suo talk io perché ho iniziato come dicevo prima ho voluto fare questo talk e poi vediamo anche le prossime slide sì ci stiamo dentro perché l'anno scorso sono andato in Olanda a vedere WordCamp Netherlands e Yoast ha fatto un talk Yoast che è il fondatore di Yoast ha fatto un talk proprio su questo tema e faceva vedere proprio quello che dicevo prima come per esempio suo cognato mi pare avesse un sito che generava se non sbaglio 300 300 visite aveva 300 ah l'ho scritto lì scusatemi 160 view al mese e generava 950 volte più hit di quelle attese faceva vedere proprio i calcoli che aveva fatto vi assicuro che se andate a casa il mio consiglio è questo è un po' come diceva Yoast andate e parlatene ed è quello che sto facendo io oggi perché ho preso a cuore veramente questa cosa e ce l'abbiamo a cuore noi come Saigron come azienda andate a vedere quelli che sono le hit che vengono generate da ogni vostro sito di ogni vostro cliente e andate a vedere di tutte queste azioni cosa potete effettivamente fare perché potreste avere veramente un grosso impatto a tendere su l'universo mondo diciamo di internet fatto questo ok fatto questo tenete conto che come dicevo all'inizio il cambiamento di struttura permette anche un cambiamento e un investimento in contenuto l'investimento in contenuto vuol dire che io sono una di quelle persone che dice se tu fai beneficenza dillo non devi dirlo perché si la slide magari non c'entra niente lasciamola qua che dopo andiamo avanti io non dico di parlare della beneficenza che fai per renderti bello agli occhi degli altri ma perché è utile far sapere se tu hai un potere comunicativo se hai qualcuno che ti ascolta è giusto far sapere che tu stai facendo un'azione perché puoi avere un'influenza positiva qua è uguale se tu hai una struttura se tu costruisci il lavoro sulla struttura la forma del tuo sito e quella dei tuoi clienti in modo tale che sia green parlane con tutti fallo sapere crea un contenuto che faccia capire che effettivamente tu sei green non perché hai piantato due alberi ma perché hai fatto qualcosa di concreto perché tu tutti i giorni lavori e opere in modo tale da avere un impatto inferiore sul mondo rispetto alle emissioni di carbonio che gli altri invece generano e quindi puoi effettivamente definireti green se hai un'attività ora fin qua abbiamo parlato di chi ha un sito web ora se hai un'attività diventa più complicato ma gli investimenti in realtà beh dipende quando si parla di attività si parla di tutto e di niente nel senso un'attività può essere fare scarpe come può essere creare siti web rimaniamo nell'ambito del digital perché comunque noi della community lavoriamo con i siti web se hai un'attività devi sempre pensare che tutto quello che abbiamo detto fino adesso vale anche per te perché è un'attività è un'esposizione web quindi se non sei green te con il tuo sito è inutile che vai a dire di essere green o a cercare di spingere sull'essere green devi esserlo prima te quindi tutto quello che abbiamo detto prima andrebbe percorso e fatto e poi ci sono tutta una serie di azioni che avendo un'attività per far sì che siano green devono essere seguite in modo strategico puoi andare da 3Nation e piantare tutti gli alberi che vuoi ma è un'azione singola è un'azione che ti permette di creare contenuto di essere green in questo momento ma non di esserlo a tendere quindi ci sono tre elementi che io ho individuato sul quale le aziende con le quali parlo che sono effettivamente green operano che sono produzione approvvigionamento d'offerta nell'esempio dei siti web che è la più semplice se qualcuno di voi sviluppa siti web a siti web per i clienti cosa significa? Significa che mi approvvigiono come dicevo prima da un'infrastruttura che sia green che permetta a me di vendere io vendo siti web nel senso faccio siti web per le persone ma occhio come mi differenzio anche dalla concorrenza io non faccio un sito che sia performante che sia ottimizzato per l'asseo e quanto volete ma posso anche vendere qualcosa che sia realmente green se io mi approvvigiono da un'infrastruttura green lavoro sull'ottimizzazione della velocità del mio sito lavoro per ottimizzare tutta quella che è la questione bot per esempio che dicevamo prima io sto veramente offrendo e lo posso certificare lo posso scrivere comunicare ai 420 che io sto offrendo ai miei clienti qualcosa qualcosa di veramente green quindi io ti faccio un sito che è green che è sostenibile che va a rintracciare quella che è la domanda degli utenti che abbiamo visto prima del 90 56 e 93% quindi approvvigionamento da infrastruttura produzione di prodotti green sostenibili come in questo caso i siti e un'offerta che si dipani anche su altri servizi terzi che il più possibile debbano seguire la sostenibilità perché io posso anche per esempio posso anche creare un sito web green e quant'altro ma se poi i servizi affini che offro qualunque essi siano sono totalmente in contrasto con la mia ideologia primaria c'è qualcosa che non va la gente se ne accorge le persone non sono stupide ed è proprio il fatto che noi parliamo di sostenibilità di 10-15 anni ormai in modo continuo che le persone non sono più stupide e si rendono conto se tu le stai cercando di fregare quindi quando si parla di attività è importante seguire tutti quei processi appena detti con uno sforzo in più infine e solo in questo momento è importante ed è giusto impegnarsi in azioni concrete come azienda in questo momento quando tu puoi realmente dire io ho una struttura una forma online green io distribuisco prodotti green allora solo in quel momento a mio modo di vedere puoi realmente fare di più se vuoi farlo e sono le azioni di sostenibilità come il andare alla 3Nation e piantare degli alberi come raccogliere la spazzatura come tante azioni che possono essere etico e sostenibili ma perché fanno parte di tutta una cultura e una strategia che voi dovete diffondere e che io invito voi a comunicare tanto perché vi aiuta a livello di ricercabilità sul web ma poi perché realmente trasmette una cultura ed è una cultura che va trasmessa all'interno della community soprattutto di wordpress perché facciamo parte del 50% del web quindi un po' il tema come dicevo non abbiamo tanto tempo non possiamo andare a indagare nello specifico in questo talk come anche quello che vi consiglio di andare a vedere di Yoast non si va a vedere nello specifico ogni azione ma già lì almeno fa vedere come bloccare i bot per esempio è un po' più tecnico ma il punto è questo come dicevo prima noi siamo il 50% il 45% credo che sia wordpress 42-45 noi siamo il 50% facciamo parte del 50% della popolazione del web e il web è il terzo produttore di CO2 più grande al mondo noi siamo realmente la differenza al di là delle marchette essere etico sostenibili è utile è utile per il vostro business è utile per la vostra visibilità è utile per voi che siete cittadini del mondo quindi lo sappiamo tutti è la manfrina solita che ci diciamo che ci dicono ma è vero in questo caso voi più di tutti voi più delle persone che stanno là fuori potete veramente attuare un cambiamento questo è importante perché questo noi non lo pensiamo noi pensiamo di avere un sito web di non contare nulla noi contiamo tantissimo contiamo per il 50% di quella popolazione e possiamo attuare queste azioni presto pensate se ognuno di voi a macchia a macchia d'olio cominciasse a diffondere alcune di queste idee e il fatto di poter andare a intervenire sul proprio sito per renderlo green nel giro di 3, 4, 5 anni questa diffusione all'interno della community globale come è stata per me tra Olanda e Italia questo che cambiamento può portare è importantissimo e quindi questo ci permetterà veramente veramente di trasformare internet di oggi in un futuro migliore per tutti e da questo non si scappa quindi grazie bene grazie Luca avete domande riflessioni condivisioni ok scusami niente non potevo non fare una domanda no prima un'affermazione poi una domanda Yandex comunque è disponibile anche in Italia non so se si ok ottima domanda è fatto bene no la domanda è un'altra in realtà la domanda era più che altro tu mi dicevi per ridurre i tag ridurre i link dei tag non sono sicuro di capire bene cosa intendevi grazie ah tanto si sente sì ottima domanda su Yandex io non ho non ho detto una cosa effettivamente importante nel senso che se tu vai a vedere il tuo sito tu ovviamente negli analytics quando fai soprattutto per chi ha magari per chi produce per chi sviluppa siti per i propri clienti e fa un'analisi di quelli che sono i canali dal quale deriva poi l'utenza ti renderai conto quali che sono i canali che sono interessanti o meno per questo vale non solo per Yandex vale per qualsiasi cosa ti rendi conto di quelli che sono i canali che sono interessanti per la visibilità del tuo sito qual è l'utenza di Yandex in Italia quali sono gli utenti che effettivamente arrivano sul tuo sito provenendo da quel canale è rilevante è sempre quello il discorso tu pensa che per una tua preoccupazione che probabilmente un utente in più al mese arrivi sul tuo sito moltiplicato per i milioni o miliardi di siti che ci sono al mondo quanto in realtà tutti quanti stiamo inquinando stiamo generando molta più CO2 inutilmente con la speranza che forse qualcuno mi vedrà in quel determinato canale i dati mi dicono che nessuno arriva da quel canale me ne devo veramente preoccupare non sei obbligato a farlo qua non c'è nessun obbligo assolutamente non so come dire io non sto dicendo devi farlo corri a casa altrimenti sei una brutta persona non sto dicendo questo però sto dicendo che ci sono delle accortezze alle quali dobbiamo ci sono delle evidenze e rispetto a queste evidenze dobbiamo avere delle accortezze poi puoi decidere te in autonomia se averle o no queste accortezze però col pensiero che il tuo piccolo contributo moltiplicato per il contributo di tutti possa aiutare è la stessa cosa che avviene non so come per la ricolta differenziata e quant'altro nel senso se lo fai per riuscire ad aiutare il tuo stato tu devi considerare che internet è un tuo stato tu devi considerare che è come l'Italia e quindi cercare di aiutare il più possibile è un po' forse lasciami passare il termine egoismo continuare a perseguire il fatto di avere forse quell'utente in più ma Yandex era un esempio era un esempio per dire è un sistema poco usato ecco come Baidu e quindi se non c'è interesse si se vuoi tenerlo tienilo però seconda domanda ah scusami scusami sui tag intendevi dire ah no per ogni per ogni io intendevo questo quando noi abbiamo fatto la ricerca interna nella nostra azienda siamo stati cazziati siamo stati cazziati e abbiamo detto ma cacchio ma state mettete un sacco di tag per sugli articoli del blog che non servono a nulla cioè mettevamo tag inutili è vero io per primo e parlando con diciamo gli esperti interni dell'azienda ci fanno guarda che però wordpress per ogni tag che tu aggiungi lui genera un url ok ed è questo è l'url che ti dicevo che in realtà viene crawlato dai bot presenti sul web questo moltiplicato per ogni tag che tu crei ok per ogni articolo comunque dipende quanti tag hai moltiplicato poi per tutti i siti che esistono al mondo contemporaneamente con tutti i crawling che vengono fatti ogni secondo genera richiede energia tu devi pensare che ogni azione richiede energia e ogni richiesta di energia emette consuma cioè consuma energia emette CO2 e quindi è sempre una questione di pensare a quella che è la singolazione moltiplicata per quel miliardo e mezzo di siti che poi se ogni sito avesse dico a caso già solo due tag e ce ne hanno di più quel miliardo e mezzo già diventerebbe due miliardi e sei è tutto talmente esponenziale che ci dobbiamo chiedere se effettivamente ne valga la pena come avete risolto dal punto di vista dal punto di vista tecnico io non voglio darti un esempio sbagliato cioè non voglio darti un suggerimento sbagliato perché rischierei perché sai che non sono un tecnico possiamo dire una soluzione più generale di tenere solo quelli necessari sufficienti per il tuo sito da quel punto di vista sì ah certo hanno eliminato i tag inutili noi li abbiamo eliminati no noi li abbiamo eliminati tutti a noi c'è stata proprio fatta richiesta di eliminarli tutti e quindi basta ma anche quelli precedentemente creati cioè non è una questione di non utilizzarli più li abbiamo eliminati tutti ok poi questa è una possibile soluzione ce ne sono altre intermedie quello che ci portiamo a casa è con consapevolezza sì sì assolutamente ma è sempre quello il punto scusate ho cercato di chiudere perché c'erano altre domande no poi un altro discorso interessante che comunque ne guadagna il sito nel senso che anche a livello di SEO e di indicizzazione come poi spiegava anche stamattina l'intervento del ragazzo di Yost appunto se elimini gli url che non sono necessari chiaramente i crawling di Google visitano quelli necessari e ne hai un guadagno e anche a livello di tag molte volte cannibalizzano con le categorie bravissimo con altre cose quindi in effetti hanno utilizzato molto poco da noi c'è stata la scelta drastica di toglierli poi bisogna vedere a livello SEO cosa hanno combinato no no a noi proprio i siti l'exper c'è netto di toglierli a livello di SEO diciamo sì 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 come dicevo prima c'è proprio una schematizzazione secondo me c'è proprio una linea di comando da seguire che è infrastruttura certificata green ottimizzazione di performance e poi si va a lavorare su tutto quello che abbiamo detto ma una è legata all'altra perché è inevitabile cioè ne beneficiano tutti non c'è danno non c'è danno esatto non c'è danno c'è solo beneficio un'altra domanda mi ero solo persa qual è la seconda nazione dopo la Cina e prima di internet gli Stati Uniti ok bene grazie Luca ci sono altre domande sì vai vai grazie Luca intanto mi hai convinto ti ho convinto sì sì ero restito a fare la domanda perché in realtà vado un po' sul tecnico sul tecnico dipende che cosa intendi banalmente ci hai fatto vedere il link di website carbon.com per curiosità questo sito o altri simili a questo danno anche delle indicazioni su come sia migliorabile la ah beh non è una domanda tecnica dai pensavo che mi chiedessi no 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 certamente allora su piccola piccola definizione dei carbon calculator come dicevo ne esistono tanti website carbon se non sbaglio perché con loro ci ho parlato è gestito da è gestito da Walgrain che è una agenzia inglese il loro carbon attuale ma stanno per fare un upgrade ok ve lo dico perché non ci ho parlato si basa su google page speed intanto ci do questa informazione per capire ok quella che è mediamente la possibile emissione di co2 che il tuo sito genera io l'ho indicato qua perché visivamente soprattutto se parlate con i clienti può dare un'idea giocosa ma comprensibile dell'emissione perché quando ti dice guarda che ti servono 12 alberi solo per il tuo sito il cliente dice oh cavolo se invece glielo spieghi magari in altri termini fa un po' più fatica quindi quello è il motivo per cui l'ho consigliato anche noi abbiamo sviluppato un website carbon un carbon calculator se per questo che non si basa su google page speed tra l'altro l'output che tu hai quando calcoli calcoli fra virgolette le emissioni in realtà è molto semplice è molto semplice perché come dicevo prima le soluzioni che loro danno è solo sulla infrastruttura quindi ti vanno a indicare quelle che sono eventualmente delle infrastrutture a livello globale che hanno certificazione green che quindi sono all'interno per esempio della green web foundation non so se sapete che cos'è comunque un ente certificante ok perfetto e ti vanno a suggerire qua dipende da quali carbon calculator website carbon non lo fa che io ricordo ti vado a memoria ho fatto la ricerca un paio di settimane fa non ti va a dare a indicare esattamente dove andare a lavorare sul tuo sito perché non è che fa un'analisi del sito andando a individuare quelli che sono gli elementi che faccio un esempio rallentano il sito perché ti dice il tuo sito è mediamente più veloce più lento rispetto alla media ma non ti dice non ti individua la motivazione per cui e quindi questo output devo dire io ho provato 3-4 calculator per vedere che non mi dessero dei diversi output e quindi come risultati in realtà sono tutti molto simili quindi non è che website carbon ti dice guarda che fai schifo e l'altro ti dice complimenti sono diciamo allineati però non ti fanno un'analisi del sito tale per cui quello lo dovresti far fare lo dovresti far fare a un tecnico che ti va a individuare quelle che sono le diciamo le parti contenuti i servizi qualsiasi cosa se hai un se sei il nostro cliente per esempio ti basterebbe andare in chat di assistenza e questo lo fanno tutti i provider e ti vanno a individuare quelle che sono le criticità però no il carbon lo fai in prima persona direttamente scusami perché non so di cosa ti occupi bene grazie mille Luca sei super interessante e magari non sono di Teramo no ho l'accento no ok ah no no ho detto Teramo la mia collega è vicino a Teramo quindi non lo so mi è venuto per quello noi ci rivediamo qui alle 5 e mezza sì esatto 7-8 minuti per i closing remarks e la chiusura della giornata grazie Luca grazie a tutti 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 grazie a tutti